solo l'entrata del professore a madrid assomigliava ancora al piano e neanche tanto perché mancava un cavaliere professore dobbiamo andare in moto su strade forestali sterrati e peperi il bestiame attraversarono la mancia evitando i controlli il cavaliere il suo scudiero sconfitta dopo sconfitta avanzarono verso una battaglia di pazzi in questa guerra impossibile mentre stava per saltare in aria tutto la mia vita è la mia vita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.